Ciao Ah, ragazzi Scatter! Non mi riconosci? Oh, chci. Surpris? Non, 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 non... ...ne... To bylo jenom větříček? Pane, vás dáme a páni, vítám u třetího partu. Aspoň doufám, abych ty konce zmeny dělal vola. Konec! 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 Neskáš, a máš nejdeže, co jsi zase. Ooo! Konec! Cmáte, kteře tým učiním. Víte, konec, kteře učiníte! Solysand a tříže díazný? Protoč? Díazný četři! Hm... Mátejší, než počinují. Hej, nikola nebo takého lidé říkolo. Našte dědi, nebo naši... ...ynížajíte. Cof! Tu già già troppo tempo di tempo. O che ti fai? Se tu non lo fari dalla vostra proposta, ti fai piacere da te stesso. Pronti i nostri amici la porta, ti fai? Oh man, questo è davvero emocionante. È sicuramente. E ora, per prima volta qui a Endercon, siamo molto orgogliosi di presentare Gabyl the Warrior. Gabyl! Voi? 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 Oh, le ore? Voi? Dove sei Lukas? Mi chắcito che fosse proprio al di me... Beh, se non c'è qui, l'unico posto che potrebbe essere... C'è ancora qui sotto! Ivor ha avuto un colombone e tutti gli ingredienti per costruire una costruzione. Se fosse per l'inforzare in questo gruppo di persone... Dobbiamo lavorare velocemente. Si succede così, che il migliorno di tutto tempo è nella costruzione. Dobbiamo chiedere a Gabriel per l'inforzare. Questo è il migliorno modo di aiutare Lucas. Si è fortissimo. Ma spero che sia fortissimo per l'inforzare. Per l'inforzare, per l'inforzare, per l'inforzare, per l'inforzare. Per l'inforzare? Sei sicuramente, Jesse? Si. Sto di voi, vai e il Gabriel. Vi si è su, Jesse. Spostiamo un modo da spostare Gabriel e poi ci trovi qui. Per l'inforzare questo partito. Per l'inforzare, come potrei. Si fai attivare. Si fai bene. Non c'è nulla, non c'è nulla. Non c'è nulla, non c'è nulla. Non c'è nulla, proprio per credere. Lucas, mi chiede tu, anche se mi chiede, Jesse? Tu si chiede tu? Lucas, tu! Tu ok? Ah! E' stato peor. Non posso dire che questo è il migliore che ho mai stato in. C'è nulla idea? Non c'è nulla, non c'è nulla. C'è nulla? Non c'è nulla, non c'è nulla? Non c'è nulla, non c'è nulla. Non c'è nulla, Lucas! Non c'è nulla, non c'è nulla. C'è nulla, non c'è nulla. C'è nulla, non c'è nulla. Non c'è nulla, non c'è nulla. Commissara... C'è nulla! C'è nulla? C'è nulla... C'è nulla! 4 words, 6 syllables Sounds like Smonster in the Schmaisman Uh Next Wait, just I have a question for you Excuse me sir, you'll have to wait your turn Just tell me first Do you really believe Anyone can be great With enough hard work Yes Was that where I went wrong I simply didn't work hard enough Ivor Is that really you? How dare you interrupt like this That's the guy who attacked us in the basement I wish I could say I was surprised If it's surprises you want You're in for a treat Why don't you tell them the real story Gabriel I see time has made you bitter And it's made you An even bigger fool Now these people were promised greatness And I'm ready to deliver I'm sorry I'm sorry That's how they had to learn the truth Gabriel, you have to stop him Nothing built can last forever, Gabriel I'm sorry No 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 a ne vieti no sežer 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 sež sežer sežer Non c'è bisogno di rilassare, amici. Ho un elixir che farà l'immagrazione. C'è questo? Cosa? Non è possibile. Devono funzionare. Mi prendo l'immagrazione. C'è l'immagrazione. Jesse, hai l'immagrazione. C'è i tessi! Jesse, fai l'immagrazione! Ivole, tu morce, vždycky se nevac賤. Ivole, tu velice! Cosa, chci, vždycky mi chci! Cosa, chci mi! Ivole, tu morce! A tu morce! Ivole, poště nalšina! Ivole, poště nalšina! Jesse, pomáte mi! Představím si. Ivole, tu morce! Era veramente una cosa che può poter capire nessun caso. Non per se poter capire. Ovunque si acele tempo... ma ti che mi aiuta? Posso giocare in risposta. Ma cosa potrebbe succedere dopo non stesso tempo? Non posso farlo solo. Stε lo so! fuori dalla scuola fuori dalla scuola Chiunque da qui? Chiunque mi ai 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 ai? LUCAS! Se stavamo in quel basmento... Grazie per aver venuto Jesse. Non potrei essere qui senza te. Non c'è nessuno? Dobbiamo venire da mia fortuna. Ci sarà meglio di proteggere. Grazie per questo. Ok, ora siamo venuti. Non c'è l'accio! Vesvi holčičko a pèhej. Co bych to... Ale jo! Přeskočíme! Epic! Epic jump! Sembite! Prendite! Prendite! Ok. 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 Takhle... Máme tam rubna, takže musím jít na pravo. Ano, přes oheň! Přeskočíme ho! Nul! To byla rychle rád. A je dobrý, že to funguje i na tom BSAD. A nemusím jenom šipky. Jsem rád, že to ukazuje na šipkách takhle. Protože je to lehčí. Čím lehčí, Jsem rád předsedlo. Pokud tam máme přísťového obsidiumu. Přeskáváme na tady A jsme být vlastní. Přeskáváme. Voi tutti! Ora! Grazie. Oh, grazie! Grazie. Ci sono molto molte di loro. Non posso salvare tutti i stessi. Non posso farci questo a me stesso. Nebiamo trovare altri altri. altri altri? Zorin è stato per anni fa, ma i altri... Tu dovresti trovare loro! Prendi questo amulet e guardi il vostro vita! Puoi fare questo! Tu dovresti! Come potrei trovare Magnus e Eligard? Il amulet potrà guidare te. Prendi lo verso il destino. Per noi, veni da portale e incontriamo con altri. Sto qui faccio tutto ciò che posso. Vai, Jesse, vai! Veni da portale, ora! Petro, devi andare da portale con noi! Sperto Jesse, questo è qualcosa che ho dovuto fare. Se cosa succede, vi trovi a te novi nel templo. Beh, ok, ok, ok! Ok, ok! Ok, ok, ok! Come potrai dovuto dole. Tqua, ok, ok! Lukas! Ha! Noi, non! Non! Non non! Non! Oh, grazie, Jesse, Gabriel è ancora su e situ! Jesse, vai! No non! Noi! Cosa Petra? Abbiamo fatto tutto che possiamo. Cosa ti dice? Jesse? Cosa parlare? Perché non sembrava. Cosa. Cosa. Non è così che non si può fare. Jesse è direzione. Petra è ancora qui. Mi sono spostato. Per un pocci. Ti sono spostato? Non è la mia scuola. Ti sono spostato e non è la tua scuola? Non si stai. Dobbiamo tornare. Non, ma dovremmo aspettare. Pensi su cosa che sei arrivato. Non c'è nulla cosa che puoi fare. Non c'è nulla cosa che puoi fare. Non c'è nulla cosa che puoi fare. Ehi, tu si è. Non c'è nulla cosa che puoi fare. Non c'è nulla cosa che puoi fare. Non c'è nulla cosa che puoi... A tu rilevci? No, non c'è nulla cosa che puoi fare. Ivor, sei tu conosco tutto. Non ho detto che tu non sovi. Tu prendi la mia più valutosa potenza! E cosa che fosse la mia momenta? E' un trasmuscio! Questo è tutto il vostra culo! Cipolli un plan a tu intenziali. Il vostro plan era di riportare a un città che voli di persone. Non c'è nulla di controllare Non c'è nulla di controllare ...e tuo amico... ...e vieno con il suo fru... ...dokice... ...che sei un peccato... ...migli... ...e questo è quello che si tratta... ...d'immagino più di vita, do che di vitività... ...e meno di vitività... ...non non è mai vita... ...intre il tuo metodo di minuardia, ...so prezontato da ordine di ston... ...ma te sei la quinta. ...d'immagino di così... ...mh... Il tempo è spostato, andiamo. Non mi ricordo chiede di vostro aiuto. Non è per me. Si, beh, guarda lo a te stesso. Non c'è nulla, non c'è nulla. Non c'è nulla maggiore. C'è quello? Mi piacerebbe piacere buona, ma piacere non ti porti nel nero. Tu hai miei sympatieti. Oggi. 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 Imi fuori da qui. Oggi. 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 Imi nové! Imi nové... Wow, il giudice. Si, è molto di lava. E il foglio. E altre cose che possono poter te farci. Oh non! E' una cosa che è il giudice, è tutto molto, molto di giudice. Cosa di nuovo, ragazzi, cosa è giudice? Oh no, non ero, non ero. Non ero, non ero. Ora andiamo. E' vero, non lo soffi, non lo soffi. Oh no. Uuuu, non lo soffi. Non lo soffi, non lo soffi. Ok, quindi non l'improvo che vediamo che stiamo fuori dall'acca, no? Non? Bene. Jesse, è la traccia. Ora, fai! Oh, le braccia non mi failli ora. Vate, non mi fai. Wow, pensavo che ci fosse qualcosa che succederebbe, ma penso che tutto si può essere... C'è che io mi chavo cammiata Ok Ruben eccheteci come giorni che tutto ciò che vorrei otrere prima di prima Abbiamo notato che eranoworm proprio in player Ma mi ho avuto un profano di più WOOOOOO F須 Ci racconti cucci Asi dai cacchiamo baseball è il proprio il il sport che... ... 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 Non è morto, credo che è abbastanza buono. Ditto. Ditto. Non è morto. Non è morto. Szyhajte questa ragazza? Sì? Non è una di loro. eingroppate mai theibliosti. Ploći stai in giro si può buttare? No, la ho vedo, perché proprio di fatto a few разi. Wow, guarda questo posto. Tutti questi stracchi si convergono a questo punto. Possessi probabilmente venire da qui nel mondo. C'è il portale. C'è quello che Gabriel parlava. C'è il nostro posto. Deve portare alla superficie. La superficie è anche dove il tuo creatore. Si è giusto. Non c'è idea di cosa stiamo. C'è potrebbe essere pericoloso. Grazie per essere così bravo Axel. Ok, andrò. Andrò ora. Andrò ora. C'è bisogno di sicuramente che ho tutto ciò che ho bisogno. Ci puoi farlo Axel. Hai proprio. Anche posso farlo. Il nostro posto non ha capito, cosa ha avuto. Ok, qui sto. Grazie Jesse. Trai a te. Ci sono sicuri Axel. Quali a non, qui ho venire. Ok, here we go! Here we go! It's me a Mario!